E' partita da Piazza Roma e si è stesa buona parte del centro città la protesta contro l'annunciata rivoluzione della zona traffico limitato progettata dal comune. E oggi si respira un'aria di soddisfazione per la retromarcia di Palazzo Cernezzi. La pedonalizzazione non si farà almeno al momento. Tutto rinviato dopo la presentazione di una petizione corredata da 600 firme contrarie. La scelta più contestata è proprio l'eliminazione di circa 300 posti autocomplessivi, gran parte in Piazza Roma. Effettivamente non piace ma più che altro siamo preoccupati per il lavoro che senza dubbio se non c'è viabilità è ovvio che le persone girano meno. Non trovando più un punto di riferimento come Piazza Roma, come altre strade che comunque adesso ci consentono di parcheggiare, perché chiudendo un pochettino la città diventerebbe un pochettino anche, vuol dire anche allontanare la gente per paura di non trovare un posto per arrivare in centro. Cerchiamo di trovare una soluzione per tutti. Non è solo un problema di parcheggi, ci tengono a sottolineare i commercianti ma anche di sicurezza della zona. Secondo me è proprio un progetto da rivedere, perché al di là del fatto che in questo momento a Como mi sembra che le priorità siano altre, questa zona diventerebbe veramente una zona poco sicura. Però in questa zona io reputo che si venga a creare poi dopo una zona morta, in questa zona qua, perché è una zona che rimarrebbe un po' troppo abbandonata. Una valanga di no che ha indotto il sindaco Mario Lucini e l'assessore alla mobilità Daniela Gerosa a un incontro con i firmatari e quindi a un rinvio del progetto in attesa di un confronto sul tema. Ora i commercianti chiedono di avere più voce in capitolo. Che si riesca anche a trovare insieme delle soluzioni che possano andare bene, giustamente non solo per una categoria, quella dei commercianti, ma anche quella dei cittadini residenti in centro Como e tante altre categorie che sicuramente sono coinvolte e che devono trovare il giusto equilibrio.